Wow, che è successo? Ando via la corrente Nooo Dato che faccio schifo a questo gioco Sto pomeriggio Alle 5 e mezzo sarò in live su Twitch e mi dovrete spiegare assolutamente come si gioca Mi raccomando vi aspetto eh Se no farò schifo per sempre Ma guarda un po' chi è tornato dopo tipo quanto? 6 mesi? 6, si bene dai Almeno stiamo accorciando le date tra un episodio e l'altro No, almeno questo Prima era un anno, adesso sono 6 mesi quindi vai Calma musica, calma Boom del mercato nero, 0 crediti, 4 familiari Mi piace come i familiari sono praticamente dei soldi Sono moneta di scambio Troppe immigrazioni facili Non guardare me eh Ok, vedo che siamo depressi come al solito Devo ricordarvi come si gioca sta roba No, please, no, non chiamare La regolamentazione sulle credenziali d'entrata è ora più stringente Il cedulino d'entrata non è più sufficiente Ariosirius Ma quanto caspita è privilegiata questa città Ok, proviamo, proviamo Se muoio è colpa del gioco credo Vai avanti, primo Buonasera Documenti prego Sì esatto, allora fa vedere Iniziamo subito, devo andare veloce Questo è il cedulino, no? Questo è il permesso di entrata Non so se devo avere il cedulino Però in ogni caso Oh, che cos'è sto casino? Allora il coso mi sembra giusto Sì, ok, è giusto Poi Andrilla Srandre Eh? Andrilla Sradentes Eh? Ok, mi sembra giusto Avete il passaporto numero D4 9A 1F Devo sbrigarvi perché il tempo sta passando Scadenza Vediamo dove è la data 22 del 12 Dell'82 Buono Credo sia abbastanza giusto Quindi Sì Non so se ti serve il cedulino Entrata comunque Toto E vai in Cina Prossimo E continuo a sentirmi Paolo Bonolis però, eh Buondi Faccia di piombo Rimango 8 settimane 8 settimane Sono 2 mesi Ok, vediamo se è giusto Paola Eins Republia Eins Paola Ok 21 del 4 Però devo controllare una cosa Allora, vedo che è Republia Sta roba qua Però devo vedere Republia Ha detto Vediamo dove è Republia Sono curioso Eeeh Quindi tu vieni da qui Com'è il passaporto Dovrebbe essere così Come faccio a vederlo Posso vederlo Sì, è giusto È giusto Allora, senti Ti voto anche a te Sei buona Non sparare alla gente È una cosa che non si fa da me Da te forse Quindi ci sentiamo Devo sbrigarmi Più Più gente faccio Più soldi mi danno Così almeno La mia moneta di scambio non muore Durato il soggiorno Pochi giorni forse Pochi giorni forse Scusi Lei ha bisogno di un passaporto Non so se lo sa Tra l'altro viene da collecchia È stato piacere Ti ho anche C'è entrato il co Cos'è questo? No, non è necessario No Ormai non serve più Non basta più Esatto Che schi Levati Prossimo Vediamo un po' Chi entra Chi entra Oh Salve Lily Perché c'è Lily lì? Perché mi voglio complicare la vita Ecco perché Scusi Permesso di tratta Signora Lily No No Mi dispiace No 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 Ti devo rifiutare Cos'è? Devo stampare con rifiuto il coso Ma Ma È finito l'inchiostro? Oh Ecco In concorrenza è arrivata Dovevo cliccare sul tag Dica Passaporto e richieste Esatto Hanno preso il mio passaporto Ah Eh Eh Spera Arriba Via via Nel prossimo Salve Isaac No Questo non lo faccio Sei mesi Durata del soggiorno sei mesi Vediamo Sei mesi Mi sembra giusto Scadenza Cinque dell'undici Scusi È scaduto Io prego Lascia passare Mio figlio Aspetta Certo Certo Che ti lascio passare Rifiuta No Via Quanto rilassante è sto gioco Finché non esplode niente È tutto a posto No Sa Perché ti hanno picchiato? Ti è successo al naso? Perché sei qui? Vediamo Mi trasferisco qui Forever Endeavor Per sempre Non so se sia possibile Vabbè qua non c'è scritto niente Quindi mi sa che va bene Però mi fido poco Quindi lo faccio scentrato Ok Non inciampare Vabbè tanto il naso ce l'è già L'ho rotto Transito per Arstotzka Durato il soggiorno Un paio di giorni Oh sì Due giorni Vedo che la scadenza è giusta Dagae Rtkr Sì Vonne Che carattino Meglio Scusi Non lo sto prendendo in giro I vonne Vai Sicuro che farà esplodere qualcosa Eccolo là Premesso entrata Nome non conforme O come? Aspetta Non dirmi che È vero Ci stavo ridendo Quando ho letto il nome Ma porca Ehi guardi Sono molto bravo A fare questo lavoro Sì L'hai fatto a mano? Bello Sei fuori È stato un piacere Conoscerti Non dirmi che Questo cosa Era vero Perché Sparo a chiunque L'ha fatto Torno con uno Migliore No magari torna Con uno vero No se ne vanno via No Le fatti scappare Che caspita hai fatto? Carta di identità Ah questo è Personaggio di Arstotzka Vediamo Cosa bella è che Dato che Ho finito il mio turno di lavoro Possiamo rimanere qua forever Non devo tornare a casa Dai miei parenti Che muoiono ogni giorno Quindi Come va? Come? Come vanno i baffi? Allora Benzo 78 kg Passiamo Octovalis Octovalis Cioè perfetto Quindi tu sei Sempre abbastanza sincero Soprattutto per gli occhiali O sono occhiali O sono pugni negli occhi Però Non so che cosa sia Però è giusto Corrisponde col Ah data di nascita Madonna Orribile Ma vabbè dai Buono A prova È stato un piacere conoscerla La tua famiglia ha bisogno di medicine L'affitto è aumentato Ario Sirius Ah Aspè chi ha bisogno Male fame Oh porca Ma io non ho soldi Non ho soldi Come risparmi Stipi Ah Devo sbrigarmi Devo fare le robe più velocemente Ho capito Maledetto affitto eh Perché noi andiamo a dormire sotto un ponte tipo Atleta di Repubblica ricercato per O madò Ok Tra l'altro col collo che aveva poteva fare Sollevamento pesi dal collo Gli spettatori avrò utilizzato Ad arrestare gli individui sospetti Uh Please datemi un bonus Se riesco a beccarlo eh Va bene Dobbiamo sbrigarci Una volta aperta la serranda Non posso fermarmi Perché devo prendere un sacco di soldi Salve E tu nascondi il collo eh Qualcosa da nascondere per caso Scusate una Mi scusi Mi scusi eh Però io noto Una piccola incongruenza qua Come nessuna correlazione Eh Magari Mi dica Mi dica Spari spari Qui ci sono documenti diversi Infatti Controlla di nuovo Tu rifiuta passaporto Io me ne vado Come faccio a capire che sei tu Vabbè Fai niente Non ti arresto Però Ti sbatto fuori eh No wait Perché l'ho fatto Vabbè Toh Non uccider nessun altro Anche perché devo andare di fretta eh Non ho tempo per gli assassini Guarda Io ho bisogno di Salve Come va Tutti col collo coperto O fa freddo O veramente Nel passaggio Ho tornato a soggiorno Rimango un paio di giorni Due giorni Giusto giusto Preciso eh 48 ore Ok te la do buona Te la do buona Credo Vai Via Salve Scopo del viaggio Sono in transito Solo due settimane Perfetto eh Scadenza Va bene Questo C'ho il 12 Perfetto Il bollo è giusto Lei viene da Repubblica Lei viene da Repubblica Scusi Interroghiamo Su sta roba qua Lei vince le strade E se esatto Donazione Ascolto Non ho ucciso lei E Per passare me Oh L'abbiamo beccato Aspetta qui Oh Oh Herda Ok Che vuoi Che vuoi Non sparategli eh Prossimo Datemi un bonus Se è quello eh Do come ti prego Hai visto cosa abbiamo fatto eh Quindi spera che non succeda anche a te Cos'è questa Carta identità Sei di Arstotzka eh Distretto Octovalis Ce l'abbiamo Peso 84 kg Un po' pesante Secondo me è la sciarpa eh Date di nascita 22 del 4 Ma si te la do buona Vai Anche perché abbiamo fretta Abbiamo fretta Se no muoiono Salve Scopo del viaggio La mia scelta Odio questo schifo di paese Sono solo di passaggio Tratta di soggiorno Molto convinto eh Meno che posso Due giorni Ok Grande Perché c'è il ciuffetto Dalla parte sbagliata Quanto mi triggera sta roba Hop Robert Passaporte Giusto Carta identità Ok te la do buona Speriamo sia buona Effettivamente Salve 73 kg Mai nella vita Ok Anche questa Mi sembra giusta Spero di fare la cosa giusta Sono a 7 Cosi Mi sto velocizzando Ho quasi fatto il doppio Rispetto a ieri Scopo del viaggio Oggi è Bella giornata amico mio Finalmente siamo liberi Da tirannia di Aspetta Wait Wait Dove sei Antegria Ok Allora te lo Ti do buono anche questo In teoria Vai Please Tratta bene mia moglie Lei dopo di me Oh Oh Aiuto Aiuto Andrà a finire male Andrà a finire male No Aspettate Ho bisogno di soldi E ma 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 il passaporto È per una persona Il passaporto È per una persona Il passaporto Mi serve Mi serve Permesso Prego No E mi dispiace Uccidono me Ti uccidono davvero Are you serious Oh no Oh no La mia famiglia ha bisogno di medicina Ciao Stai bene Stai camminando A posto Datemi soldi Sgancia Sgancia Quanto c'ho Quanto c'ho Quanto c'ho No wait Wait No non è vero Non è vero Come stipendio 5 Perché non riesco mai a fare abbastanza soldi Adesso mi muoiono quelli lì Eh Vince le strade Le strade Sì L'abbiamo arrestato E il nobile ha dato niente I viaggiatori in entrata per lavoro dovranno esibire un foglio di lavoro in corso di vadiglia Ok Salve Che fronte che c'hai Cadenza Ok Le arti Controlliamo se Olstan Vediamo Il simbolino è giusto In teoria Allora te la Te la da buona Vai storto Perché sono molto ubriaco oggi Salve Ho come l'impressione che sto effettivamente lavorando Intendo lavorare E adesso tutti quanti lavorano Cittadinanza è giusta Quindi mi sembra che sia giusta A parte Fa caldo Adobristana A quanto pare Tom Tom Uno Due Tre Via Prego aiuta me Cosa aiuta me Uomo di nome Promesso me Mia sorella Buon lavoro D'Arstotzka Io non fido Temo che lui Prendere il mio passaporto E costringere a lavorare In Brondello E infila oggi Prego fai qualcosa Oh Mi sto d'entrata Sì Ok Però Però Ciccio Dov'è il resto Adesso è entrata E manca Ah sei divertente Ah Sei divertente Ciao Ma avrai fatto il lavoro buono Ho fatto Cinque ore in aereo Per dire Bravi Ho fatto un buon lavoro Ora qui Andiamo Oh salve Eh che Eh 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 Uh Aspè 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 Sei tu Darilum Uh È il momento di sapere il perché Corriza rilevata Vai Sei Dariludum Non so se sia illegale una roba del genere Non lo so Non lo so Però io Sì Arresta Chissà che succede Non lo so Comunque questo non sarebbe più Posso bruciarlo Posso Scusi Scusi Chi vuole fregare qua Ho due nomi diversi Impronte Questa è mia nuova Impronte e nome Alice dichiarati devono coincidere con gli archivi Non so se coincidono In teoria coincidono In teoria Poco poco però coincidono Non lo so io la do buona La do buona Non capisco perché dovresti avere due nomi ma comunque te la do buona Ehi E con che spalle Ok te la do buona anche a te Salve 114 chili Oh che è successo Andando via la corrente No E E tu rimani qua Scusa Che è successo Per attacco terroristico Non ha soldi Non ho risparmi Scusi Posso non pagare l'affitto per una volta E magari pagare Perché non vorrei dire ma È vero che effettivamente mi costa di meno l'affitto se muoce la gente Vabbè Io non so che fare sinceramente Mi sto impegnando al massimo Eppure non è abbastanza Quanto caspita difficile il gioco Ho notato che c'è anche la modalità facile Cosa che non farò mai nella vita Ma vabbè Comunque Questo era il secondo episodio di Coso Non mi ricordo il nome del gioco Paper please E il prossimo episodio sarà quest'estate Quindi Sì evviva E ci stiamo alla prossima Se vi è piaciuto il video Mettete mi piace E vabbè Advenerci Iscriviti al nostro canale